Contratti di affitto, quali sono i più diffusi nelle grandi città italiane? In Italia la legge prevede diverse tipologie di contratti di affitto a seconda del rapporto tra proprietario e inquilino. Scopriamo quali sono le più diffuse nelle grandi città italiane. L'analisi mostra che nel 2023 il 65,6% degli affitti è stato scelto per abitazione, il 25,5% da lavoratori trasfertisti e l'8,9% da studenti universitari. Si nota un incremento dei contratti stipulati a studenti rispetto al 2022. Bologna, Bari, Milano e Firenze hanno la percentuale più alta di affitti per motivi lavorativi. Le città con più affitti per studenti sono Verona, Torino, Milano e Firenze. Napoli, Palermo e Roma sono le città con più affitti per scelta abitativa. Bologna e Milano preferiscono il contratto di locazione a canone libero. Roma, Genova e Verona optano per il canone concordato. Bari, Verona, Milano favoriscono i contratti transitori. Il bilocale è il tipo di immobile più affittato, seguito dal trilocale.